Salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod Oggi vi andrò a mostrare la Kerbal Crash System, una mod che ultimamente sta acquistando molta popolarità Specialmente perché è un concetto che era stato più o meno annunciato da Squad un tempo fa E riguarda la distruttibilità barra deformabilità delle parti Quindi appunto come dicevo era stato più o meno annunciato, fatto intuire da Squad ancora anni fa su Reddit Non se ne è più sentito parlare e quindi quest'utente ha sviluppato questo mod Ogni parte ha quindi una percentuale di danno che però non significa percentuale di danno Nel senso che la percentuale può andare anche oltre il 100% Perché praticamente in realtà mostra quant'è la percentuale È un sistema strano insomma E quindi mostra comunque il danno delle varie parti Ora Voglio far schiantare questo razzo Magari Cercando di non distruggere le parti dato che ci servono Magari così Non intendevo molto così Ok sì 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 va bene va bene va bene esci 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 Non intendevo neanche questo ok va bene Comunque potete vedere che io mi sono schiantato e adesso abbiamo la cabina qui che è tutta ammaccata Ecco vedete tutta deformata Questo serbatorio sembra no è storto anche lui compreso il motore Abbiamo batterie tutte contorte Qui abbiamo dei serbatoi dentro là il launchpad Anche questi sono comunque come vedete tutti rotti ammaccati eccetera Si può fare tasto destro e riparare le parti più o meno un po' alla volta Ok È esplosa perché non è successo niente Magari facciamo su questa parte Andiamo qui vicino Repair Continuando a cliccare un po' si aggiusta la parte No non è ancora del tutto aggiustata Vedi così non c'è giusta Ok C'è solo la texture un po' Spallata Intanto il nostro carval non corre Qui abbiamo il motore tutto danneggiato Possiamo ripararlo Direi che va abbastanza bene Ripariamo questo serbatoio Anche questo Ok Il repair come vedete non sistema del tutto la parte Diciamo che la ripara quel che basta Ora vorrei prendere un aereo Sono qui con un altro esempio Ho un aereo Passaggeri La steering wing A300 Volevo provare a impattare sull'acqua Per vedere se Il danno Avviene anche per l'acqua Dato che Di preciso non lo so Non è specificamente detto Nella mod Ok Andiamo a impattare E il danno è 0 Quindi in acqua Non avviene ancora in acqua il danno Dato che Nonostante l'aereo Potesse sopravvivere anche Senza Le parti non hanno Non segnano Nessuna percentuale Proprio 0,00 Quindi funziona solo Sulla terra ferma Ok Come non detto Mi sono appena Schiantato in acqua E le parti Segnano Un danno Danno che però È Molto Alto In confronto Al tipo di incidente Infatti Ho dovuto praticamente Distruggere l'aereo In modo da Far venire fuori Una percentuale Scanciamo l'aereo Ok Si è Un po' danneggiato Come vedete Questa parte Ha danno 21,6% E se io Spengo Ok Come vedete Il serbatoio Sta perdendo Fuel Questo perché C'è stato un danno E la parte Ora perde Appunto Fuel Attraverso una perdita Di 1,08 Unità Al secondo Vediamo di Danneggiarlo un po' di più Adesso 1,60 Come vedete Più si danneggia Più perde Carburante Ora 2,13 Stiamo danneggiando Sempre di più la parte Siamo al 42,6% Magari facciamo Una caduta Un po' più Brusca Ok 64% 91% E la parte E la parte è Praticamente Già vuota Questo perché Si danneggiata Talmente Velocemente Da perdere Tutto il Il fuel Ora possiamo Ripararla Un po' 21,0% Perfetto Anche il motore Aggiustiamolo Più o meno Aggiustato Questo Damage Zero Repair Ok Possiamo aprire Le ruote Le ruote Sembrano intatte Infatti Si sono intatte E io sono Incastato Ok E l'aereo Ora si comporta Come se fosse Tra virgolette Nuovo Nel senso che È tutto Ammaccato Rotto Eccetera Però Dal punto di vista Della parte È come se fosse Nuova Cambia solo Il look estetico Quindi La Kerbal Crash System È Una mod Ambiziosa Ovviamente È ancora Parecchio Bagata Ad esempio Le parti che non si riparano Del tutto Anche se penso sia Più o meno Voluto Vuole implementare Un sistema di riparazione Migliore E In generale Sistemare meglio Il danneggiamento Delle parti Eccetera Eccetera Quindi Un saluto Da Timbicarbo L'Italia Ad Alberto Eccetera